eccoci qua ragazzi buongiorno e bentornati in macchina col tringa di conseguenza nella casa attuale del diavolo allora ragazzi in questo video andiamo a preparare la partita con la Roma ragazzi andiamo a dare un piccolo cambio di formazione che dovrebbe essere a differenza di quello che sapevamo ieri andiamo a parlare di un paio di giocatori per gennaio e andiamo a parlare di un nuovo nome per la difesa qualora alessio romagnoli dovesse non dovesse rinnovare ragazzi è un video molto sentito molto importante guardatelo tutto fino alla fine vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuore rosso nero e vai col video ciao i colori che noi portiamo sono la gloria sono la gloria e di colori che noi portiamo sono la gloria e rosso nel forza milano le forza milano le forza milano le ole ole milan milan sosteniamo la squadra più forte che il mondo ha visto mai magico milan vinci per noi magico milan e magico milano le ora che il milan è veramente forte noi della sud cantiamo insieme così eo forza milan eo forza lotta vincerai non ti lasceremo mai ale 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 milan ale forza lotta vincerai non ti lasceremo mai ragazzi buongiorno e bentornati nella casa del diavolo il tring è sempre presente iscrizione campanellina pollice in su per il tring è il doppio pollice per il diavolo in descrizione team maglie calcio cliccate sul link andate su instagram e parlate in privato con francesco codice sconto tringa per fare i vostri ordini pagamenti alla consegna scusate sono un po raffreddato sempre in descrizione tringa e pit 2.0 ragazzi il nuovo canale mio e dello zio peter toccheremo tanti temi importanti temi di attualità temi andremo a recensire libri parleremo di tante cose iscrivetevi a quel canale iscrivetevi perché veramente ne vedrete delle belle ieri sera uscito un video un video che ha già riscosso abbastanza seguito ho avuto tanti commenti e ho visto tanta gente appassionata di quello che ho detto ieri sera ma ragazzi cosa molto importante iniziamo subito a parlare del nostro mira andiamo subito a scoprire quello che sarà la partita di stasera allora intanto la squadra partirà stamattina presto per arrivare a roma ci sarà la rifinitura direttamente a roma nel frattempo nella formazione di ieri ho messo sandro tonali in coppia con frank si probabilmente stefano pioli deciderà di dare un turno di riposo quantomeno dall'inizio a sandrino che rivedremo contro il porto quindi la coppia di centrocampisti dovrebbe essere ben a serre frank si andiamo quindi a ricapitolare la formazione che vedrà che vedrà cipriè catarussano portiere che di fatto sta facendo vedere di dare molta affidabilità un portiere che capace anche a giocare con i piedi chiaramente l'assenza di mike mignon la stiamo sentendo ma catarussano non sta facendo rimpiangere il nostro grandissimo portiere al quale facciamo il nostro più grande in bocca al lupo torna presto magic mike su in difesa ragazzi davide calabria a destra teo hernandez a sinistra furia il cavallo del west rientra e saranno grandi problemi per la roma perché tenere teo hernandez un teo hernandez che è rientrato contro il torino nel secondo tempo ha già fatto vedere di essere in buona forma chiere tomori saranno i due centrali la coppia di grande affidabilità rivedremo alessio romagnoli contro il porto sicuramente ed è un'altra delle staffette che vedremo spesso in questa stagione quella fra zlatan e oligiru quella fra chiere tomori quella fra sandro tonali ben a serie che si sono tante staffette tanti giocatori che sono ritenuti da pioli allo stesso livello che in questa stagione gireranno molto per poter portare il mio al fino a fine stagione al massimo dell'atleticità al massimo delle sue potenzialità quindi ricapitolando la difesa l'abbiamo detta a centrocampo il frangifrutti davanti alla difesa sarà ben a ser e frank che si una difesa un misto fra tecnica e fisicità perché frank da tanta fisicità e ismail ben a ser a differenza di quello che pensavamo io e lo zio peter è un giocatore che dà molta qualità quindi stefano pioli punta molto sulla qualità centrocampo un centrocampo che dovrà senza dubbio avere l'aiuto del miglior alexis selema cares selema cares deve tornare quello delle primissime giornate quel giocatore che corre tanto ma cabina molta qualità nelle ultime partite alexis selema cares e passo passo un po appannato sicuramente un ragazzo che è un po' stanco però selema cares deve dare l'ultimo colpo mancano poche partite a fi ad arrivare alla sosta per la nazionale quindi c'è bisogno del miglior del miglior alexis selema cares selema cares deve ripeto tornare ad abbinare qualità e quantità sappiamo tutti che è in grado di farlo e sono convinto che in questa partita l'exis selema cares sarà molto importante sulla destra quindi ci sarà selema cares sulla sinistra rafa leao anche lui impegnato in tutte le partite quindi sarà un giocatore come alexis che deve dare l'ultimo colpo per arrivare alla sosta un giocatore fondamentale per il mia ma attenzione attenzione è l'ora del terrore in console professore il rientro di braim diaz braim diaz rientra il nostro folletto e sarà importantissimo come detto ieri quel giocatore che dà elettricità al nostro attacco il milan con alexi con braim diaz ha un attaccante in più di di fatto ha un attaccante in più perché lo diciamo da tanto tempo se nelle scorse stagioni avevamo come trequartista un centrocampista oggi con braim diaz abbiamo un attaccante come c'è come trequartista quindi un giocatore che ha fatto vedere di essere molto buono anche in area di rigore perché ai gol che ha fatto braim diaz lo fanno capire fanno capire che questo è un giocatore che ha un intelligenza tattica che in pochi hanno è bravissimo a capire il gioco a leggere il gioco ma è altrettanto bravo a capire dove arriva il pallone quindi si farà trovare nel posto giusto al momento giusto e attenzione ragazzi in queste partite abbiamo bisogno del miglior ibra supremacy ibra supremacy in queste partite è fondamentale e soprattutto è fondamentale averlo in campo ci sono dei dati molto importanti sugli attaccanti del minan in questa stagione e fanno capire la differenza fra questa e la scorsa stagione oggi oligiru segna praticamente ogni volta che scende in campo e la stessa cosa vale per zlatan ibraimovic oligiru ha giocato quattro partite ha fatto quattro gol zlatan ibraimovic ha giocato due mezze partite ha fatto due gol quindi la dice lunga e soprattutto il minan segna con tutti i suoi attaccanti ha segnato leao ha segnato rebic hanno segnato praticamente tutti e diciamo che un po la cooperativa del gol l'attacco del minan ed è giusto che una squadra questo fa capire quanto il minan sia un collettivo quanto il minan non sia dipendente da un solo giocatore arriviamo un po di lamentele che ho visto alle paure di qualche tifoso qualche tifoso ha paura dell'arbitro allora intanto tutto quello che sta avvenendo fuori sull'arbitro secondo me non deve spaventarci e seconda cosa si sta facendo proprio apposta a sviscerare tutto quello tutti gli errori arbitrali che ha subito il minan da quest'arbitro proprio per cercare di metterlo sotto i riflettori i riflettori e non portarlo a sbagliare un'altra volta maresca sarà sotto i riflettori quindi difficilmente potrà prendere decisioni contro una o l'altra squadra dovrà essere concentrato e arbitrare la sua partita senza senza diventare la prima donna e senza andare a sconvolgere più di tanto l'andazzo della partita io sono convinto che ne uscirà un arbitraggio tranquillo attenzione però perché questa partita come detto ieri potrebbe essere portata da ro dalla roma e dal suo allenatore sulla cacciara sappiamo tutti che giosè murigno è un allenatore capace soprattutto in queste cose perché è vero che un ottimo allenatore a livello tattico secondo me in fase molto discendente rispetto a prima non è più il murigno del triplete delle merde è un murigno che probabilmente è venuto a roma è andato a roma per rilanciarsi e il rilancio di questo allenatore passa anche da queste cose dal fatto di saper portare su di sé tutte le attenzioni e non vorrei che all'interno dei 90 minuti possa creare qualche parapiglia con l'arbitro col quarto uomo e spostare l'attenzione arbitrale di tutto l'ambiente circostante alla gara su di sé con qualche sua uscita o qualche sua sparata alla giose murigno il milan non deve cadere in questi tranelli noi dobbiamo giocare la nostra partita sono convinto che stefano pioli e i ragazzi non si faranno distrarre da quello che potrebbe essere le condizioni ambientali del che troveremo io sono convinto che questo milan sia prontissimo ad affrontare queste partite come detto ieri non vedo la roma una diretta pretendente ai primi quattro posti quindi non vedo la roma con la roma uno scontro diretto ed è per quello che bisogna vincerlo assolutamente assolutamente bisogna vincere questa partita bisogna portare a casa l'onore bisogna portare a casa soprattutto i tre punti quando vedo gente spaventata dagli arbitri mi viene il nervoso se una partita verrà condizionata dall'arbitro l'importante è comunque che il milan faccia la prestazione perché se il milan fa la prestazione il milan se fa il milan è più forte di tutto e di tutti l'abbiamo già visto l'abbiamo già visto tante volte che questo milan è in grado di poter superare qualsiasi tipo di avversità quindi ragazzi io quando vedo la gente che si fascia la testa prima di guardare la partita a me sinceramente viene un po il nervoso non iniziamo a creare alibi l'arbitro e napoletano calmi ragazzi calmi ragazzi che prima di guardare dire certe cose bisogna guardare i 90 minuti della partita partire sempre prevenuti è da deboli è da deboli continuare a commentare l'arbitro continuare a commentare queste cose è da perdenti e noi siamo il milan non sbagliamo su queste cose cerchiamo di tornare ad essere una tifoseria internazionale la numero uno al mondo perché tanti di voi cadono in queste cose si perdono in un bicchiere d'acqua aprite la mente cerchiamo di essere gli ultras di fare gli ultras di avere una mentalità da ultras perché questa mentalità sempre con la teoria del complotto contro di noi a me non piace e questa mentalità la stanno tirando fuori tanti giornalisti tanti addetti ai lavori del milan sempre a commentare queste cose sempre a parlare di queste cose ragazzi parliamo del calcio parliamo del football parliamo dei nostri ragazzi ragazzi ci sono un paio di notizie sui rinnovi ed ho già detto ieri tanti giocatori è venuta fuori un'intervista su che ha lasciato leonardo leonardo dice che non ha mai richiesto giocatori al milan e io sono convinto che questa cosa sia vera il milan non ha mai parlato con nessuno e soprattutto se ha parlato qualcuno col pari san germain è stato l'entourage di qualche giocatore e mi riferisco a che sì e che sì secondo il mio punto di vista andrà in inghilterra non andrà a parigi franche si sarebbe stupido ad andare in una squadra dove ci sono dieci giocatori davanti a lui franche si se cambia squadra è per andare a giocare non per andare a fare la panchina come qualcuno che conosciamo perché qualcuno che conosciamo di fatto sta facendo una staffetta quando era il titolare indiscusso di una squadra e probabilmente quando si scelgono i soldi alla leggenda quando si scelgono i soldi a diventare leggenda questi sono i risultati ragazzi per quanto riguarda la tre quarti a gennaio ci sono un paio di nomi alvarez questo giocatore argentino che è un po una scoperta degli ultimi tempi un giocatore che sta facendo vedere grandi cose nella sua squadra ma il il crucio del milan è faiver attenzione a bremer del torino è un giocatore che ha incantato tutti ma non da adesso attenzione a bremer del toro e potrebbe essere lui il giocatore post alessio romagnoli se il nostro capitano non dovesse rinnovare con noi attenzione a bremer ve lo dico è notizia delle ultime ore ma non proprio delle ultime ore se vi ricordate bene io ne ho parlato l'altro giorno e ho detto che questo è un giocatore da tenere d'occhio andatevi a prendere il video dell'altro giorno nel prima prima di milan torino l'ho detto sull'altro canale attenzione a bremer che è un giocatore che è in grado di affrontare qualsiasi tipo di giocatore e al milan piace qualora alessio romagnoli non dovesse rinnovare ragazzi vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuorosso nero carichi 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 energia positiva ai ragazzi come vi dico sempre fin da adesso carichiamoli perché l'ambiente è sempre molto molto importante ciao ragazzi a dopo vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuorosso nero ciao